È stato fermato a bordo di un furgone che era stato rubato solamente pochi giorni prima e al quale erano state apposte le targhe provento di un altro colpo che si era consumato sempre ad Arezzo. Per un 41enne sono così scattate le manette per i reati di furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L'uomo è stato fermato nel corso dei controlli messi in campo dai carabinieri di Arezzo in occasione delle festività del Santo Patrono. Nel corso della perquisizione sono saltati fuori un piede di porco, un martello e un cacciavite. I carabinieri hanno così accertato che il 41enne, utilizzando proprio lo stesso furgone, aveva messo a segno negli ultimi tre giorni ben cinque furti in altrettanti distributori di carburante nei comuni di Arezzo, Castiglionfibocchi e Capolona. Nel corso del servizio di controllo del territorio i militari hanno poi sorpreso al volante in stato di ebrezza alcolica sei persone, quattro italiani e due stranieri di età compresa tra i 25 e i 50 anni, a seguito di accertamento mediante etilometro. Segnalato infine alla prefettura un giovanissimo per uso personale di sostanze stupefacenti, che a seguito dell'ispezione è stato trovato in possesso di 8,6 grammi di hashish.